con una cover disegnata niente popò di meno che da John Fontaine. Diverse variant, gadget e pezzi da collezione analizziamo più nel dettaglio il mese di novembre. Partiamo subito con gli acquisti del Milano Games Week, una fiera ricca di sorprese a cui vi rimandiamo il link della nostra analisi. Partiamo con lo stand Icari che riservava la variant del numero 13 di Gannibal, una serie che abbiamo già finito ed apprezzato parecchio, contenente all'interno diverse cartoline e anche lo shikishi che noi pensavamo fosse già disegnato e schiacciato dall'autore, invece non è stato così. Era un'edizione limitata per il Luca Comics & Games dove l'autore era appunto ospite e quindi era l'occasione per farselo schiacciare. Ci sarà sicuramente un'altra opportunità. Siamo naturalmente passati allo stand di Merde Editore, dei ragazzi in Merde Editore che oramai conosciamo da tantissimo tempo. Qui abbiamo il biglietto da visita con il culo di Senpai sul retro e ne abbiamo approfittato per recuperare il prototipo di Senpai Che cazzo fai con un bellissimo sketch di un Cartman di South Park in modalità Senpai, ma il vero pezzo che stavano mostrando fieramente i ragazzi era Senpai Gaiden Wormall, con una cover disegnata niente popò di meno che da John Fontaine, lo stesso disegnatore di due fantagenitori Rick & Morty e tantissimi cartoni animati che ci hanno intrattenuto durante la nostra infazia e adolescenza. Per sapere di più sul progetto passate sulla loro pagina Instagram o guardate lo shorts che abbiamo dedicato a Merde Editore. Altre due variant dallo stand Ikari, praticamente tutti gli acquisti li abbiamo fatti lì. Iniziamo con quella di Osamu Tezuka, ovvero Wonder 3, che era un prezzo limitato a 200 esemplari. Lo abbiamo acquistato semplicemente perché aveva lo stesso prezzo della regular, quindi una storia di Tezuka è sempre apprezzata, speriamo non termineranno mai. E andando avanti con L'Inferno delle Vergini, con questa autrice per noi nuova che è Miyako Kojima, che graficamente è l'erede di Kazuo Mez, l'autore horror per eccellenza recentemente scomparso e per noi, essendo uno dei pilastri fondamentali del genere, non potevamo non acquistarla. Quindi sono nove storie brevi e autoconclusive, ispirate appunto al mondo dell'orrore, davvero carino, ve lo consigliamo. Due eccezionali spilatini provenienti dall'artisallei del Milano Games Week, ovvero il Reverend O'Klutz e l'Orca negli occhi di Ostara. Abbiamo già realizzato uno shorts con l'autore di questi due albi, un tipo assolutamente simpatico, particolare, che trapelava, faceva trapelare da tutti i suoi pori l'amore nei confronti di quest'arte e l'intento sperimentale di questi volumi. Perché non li stiamo sfogliando con sicurezza? Perché all'interno di questi albi abbiamo corpi aggrovigliati, splatter, tutto quello insomma che è bannabile sulla piattaforma. Ma per mostrar, darvi un pizzico della sua arte, abbiamo qui uno sketch formidabile che ci faremo incorniciare, ce lo metteremo proprio sopra il letto, a Mondo Fumetto con stima virile rispetto Damix. Ringraziamo Damix, vi rimandiamo al video che abbiamo realizzato per lui, veramente da leggere sotto Natale il Reverend O'Klutz. Dirt di Giulio Rincione, per conoscere meglio l'autore, noi vi rimandiamo all'intervista che abbiamo realizzato sul nostro canale YouTube proprio a Giulio. Il volume tratta di questo cartone animato sponsor di sigarette che si muove devastato in un mondo post-pandemia. Inizialmente Dirt era stato pubblicato sulla Shockdom, quindi il primo volume lo avevamo già letto e apprezzato tantissimo. Qua mostriamo lo sketch, sempre realizzato da Giulio al Milano Games Week. E adesso che la Shockdom è fallita, la Toonway ha preso in mano i progetti, ha pubblicato il numero uno, il numero due e lo spillatino che avete visto prima che è di fatto il preludio a tutta l'avventura. Numero zero. Numero zero, per l'appunto. Consigliatissimo, dobbiamo ancora leggere la seconda parte e abbiamo tantissime speranze sulla serie. Okinawa, un manga che aspettavamo da diverso tempo, pubblicato da Rizzoli in questo formato compatto. È il racconto storico dei combattimenti fra Impero del Sollevante e Stati Uniti per il controllo dell'arcipelago di Okinawa. Molto figo, io spero di trovare qualcosa narrato al Shigeru Mizuki. Grazie, ne tolto proprio le parole di bocca. Vi faremo sapere la nostra opinione direttamente sulla pagina Instagram. Passiamo ora ad un pezzo realmente forte, ovvero la raccolta antologica di Bontentaro, Sex and Fury, annunciata ormai diversi anni fa dalla J-pop e pubblicata soltanto recentemente. In un'edizione realmente ben realizzata, poiché nella sottocopertina sono presenti disegni originali dei tatuaggi di Bontentaro, mentre a fine volume una ricca postfazione che racconta la carriera di questo famosissimo tatuatore e illustratore di manga. Questa qui è appunto una raccolta antologica segnata dal tema della criminalità giapponese in pieno stile anni 60 e 70, fondamentale per chi volesse conoscere l'autore. Altre due cover Variant, questa volta totalmente dedicata al mondo dell'horror, con Visione d'Inferno del maestro Hideshino, uno dei pilastri fondamentali del genere. In questa riedizione proposta dalla In Your Face Comics, in edizione Variant, non potevamo non prenderla, una delle sue storie migliori in assoluto. E proseguiamo con Suero Maruo, il vampiro che ride, questa riedizione attesissima, poiché quella precedente era andata esaurita. È davvero meravigliosa, una delle storie migliori di Suero Maruo. Se volete conoscere l'autore e approcciarvi alla sua narrazione, questa qui direi che è perfetta. O sai nella testa papà, un libro illustrato di Matteo Gubellini, che abbiamo acquistato perché conosciamo il percorso creativo di quest'autore, avendo letto Minzi, avendo letto Mare Piatto, sono tutte e due recensioni che trovate sulla pagina Instagram. Adoriamo il suo comparto grafico e quindi non possiamo fare altro che recuperare mano a mano tutta la sua produzione. Un salutone a Matteo. Ultima opera che mancava alla nostra collezione di Miguel Angel Martin, ovvero Safari, che abbiamo trovato a metà prezzo scontata da Libraccio. Che dire di quest'autore? Se dovete approcciarvi alla sua arte, vi consigliamo opere magne, come possono essere Brain Debrain o Total Overfuck. Speriamo un giorno di incontrarlo, così da poterci far autografare la qualunque. Zodiaco di Le Ortolani. Questo volume mi ha fatto veramente pisciare sotto. Sono praticamente tutti i segni zodiacali, con i vari stereotipi legati a questi ultimi, e perculati mano a mano dal buon Le Ortolani, l'autore di Ratman. Anche se non avete mai letto nulla di quest'autore, ve lo consigliamo caldamente, perché, che crediate o meno all'oroscopo, spero sinceramente di no, fa spansare. Non l'unica opera di Le Ortolani, infatti abbiamo trovato un vero pezzo da collezione, comprato su Vinted, ovvero il numero 5 delle autoproduzioni di Le Ortolani. Quindi ce ne mancano soltanto i primi 3, perché abbiamo il quarto e poi a seguire. Terminiamo questo pilone con The Atomic Age di Superman, un volume dell'editoriale Cosmo che racgruppa tutte le tavole domenicali dedicate al supereroe per eccellenza. Lo abbiamo acquistato proprio nei giorni scorsi, quindi ancora non abbiamo avuto neanche il tempo di sfogliarlo, ma il tratto, la grafica, l'impatto storico di questo volume veramente mi invoia tantissimo. Lo leggerò sotto Natale, lo abbiamo acquistato a metà prezzo in un mercatino del centro. Carrellata di acquistina ed icola, partiamo con il diabolic mensile, ovvero scelta obbligata, con il retro ritraente una bimba con il suo bellissimo cagnolino. Proseguiamo con un traguardo importante per Topolino, ovvero il numero 3600, questa serie settimanale che ultimamente sta sfornando tantissimi gadget a tema natalizio, ad esempio questo numero era in allegato con la tombola natalizia. La riproposta della Gazzetta dello Sport per Dragon Ball, questa edizione settimanale da edicola che vi consigliamo se non vi siete mai approcciati all'opera Magna di Akira Toriyama, di cui abbiamo parlato anche in un video dedicato qui sul canale. Sì, assolutamente. I grandi maestri dell'Eros con Come Together, di cui non possiamo farvi vedere le tavole perché sarebbero bannabili, è il Dilan Dog Color Fest. Sì, ovvero la collana di Dilan Dog che attendiamo con maggiore enfasi. Esce più o meno ogni tre mesi ed è fortemente sperimentale, cioè quello che il personaggio di Dilan Dog a un certo punto richiede per sua natura dal nostro punto di vista. Tre storie con tre comparti grafici veramente meravigliosi, horror, interessanti, ma non è l'unico volume che abbiamo acquistato di Dilan Dog questo mese, infatti abbiamo fatto un po' una carrellata ultimamente, e infatti abbiamo acquistato qualcosina dal sito, pur non essendo andati a Lucca Comics perché erano esclusivi della fiera, la variant del numero mensile di Dilan Dog in questa cover che cambia movimento, colore, insomma come le Laming Cards di fine anni 90, inizio 2000, poi il puzzle di Dilan Dog che ritrae il quarto stato, questa era l'originale sotto coperta dei primi numeri di Dilan Dog, meravigliosa che qualsiasi fan ricorda con assoluto entusiasmo, insomma con una nota di nostalgia, e il cofanetto in legno di Dilan Dog con la ristampa del primo numero. Ho saputo che all'interno di questo cofanetto entrano perfettamente i primi dieci, quindi appena tornerò a casa con i miei bellissimi dieci numeri originali di Dilan Dog saprò dove tennelli, saprò dove conservarli. Una serie di volumi inviatoci da case editrici bar autori autoprodotti e partiamo con Pastille di Francesca Ghermandi. Tutte le avventure poiché si tratta di un'ontologia di storie uscite a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 con protagonista questa bambina dalla testa di Pastille che vivrà letteralmente in un sogno ispirato al falso modello di Little Nemo in cui dovrà fronteggiare delle creature davvero bizzarre dalle forme geometriche. Un incubo ha un sogno ad occhi aperti, vedremo come si sviscereranno queste storie di questa bizzarra protagonista, a noi sembra davvero interessantissimo. Bastard Jack di Simone Bocci e Eric Void, un volume figo nel senso stretto del termine, ovvero una trama abbastanza leggera, ovvero un conflitto coniugale però ambientata all'interno di un corpo anatomico non ben definito, dove il nostro protagonista, un soggetto duro e crudo alla Terminator dovrà combattere contro dei boss sempre più potenti, sempre ispirati alle anatomie e alle conformazioni insomma di un corpo, di un mostro. Leggetelo perché detto così sembra un'assurdità e lo è, ma sarà tutto più chiaro con la recensione che andremo a sfornare nei prossimi giorni. Molto molto figo, complimenti ragazzi, un volume all'Osmosis Jones che mi ha intrattenuto. Poi abbiamo il primo volume di Lionel, un'altra opera molto ispirata da un punto di vista grafico, infatti il nostro protagonista, questo cavaliere Minion, come lo definiscono gli autori, si ritrova all'interno di un'avventura alla Dragon Quest che, dobbiamo dire, ci ha lasciato un grosso hype anche per il secondo volume. Recensione prossima anche per quest'opera. Il culto di Cristiano Baricelli e Alessandro Marzola. Cristiano Baricelli è ben noto sui nostri social, lo abbiamo proposto in diverse occasioni per diverse produzioni, trovate l'analisi del culto. Sulla nostra pagina Instagram è un volume Double Face in cui da un lato abbiamo il racconto più o meno mistico di una specie di setta segreta che in realtà è una famiglia insomma molto critica e dall'altra una sequenza di volti horror ricalcati da foto di anziani, di bambini, tutto quello che potete immaginare e turba parecchio anche guardarlo e sfogliarlo. Potete ordinare i suoi volumi parlando con lui direttamente con la sua pagina Instagram. Terminiamo con il settore gadget con il calendario dell'avvento di The Nightmare Before Christmas con 13 caselline. Abbiamo acquistato questo poiché all'interno sono presenti 13 mini Funko Pop che apriremo giorno per giorno da 13 giorni dal Natale. Fateci sapere se siete interessati a capire quello che è presente al loro interno e non vediamo l'ora di aprirli e metterli nell'interno della nostra stanza. Sì insomma uno shorts per ognuno delle 13 caselle ma non è l'unico gadget che abbiamo giusto? Non è l'unico gadget poiché passando in un negozio di giochi questo mese ci siamo imbattuti nel diorama del salotto della famiglia Simpson e noi da appassionati della serie e collezionista anche dei vari Lego Simpson ci siamo portati a casa anche questo bellissimo set che si comporrà anche di diversi personaggi che usciranno nel corso del tempo. Sì l'abbiamo già montato in un video dedicato oltre a Omer che è presente in questo set abbiamo anche Ned. Dov'è? Dov'è? Tiralo fuori. Eccolo qua. Fantastico, meraviglioso. Terminiamo con i due vinili realizzati da fumettisti che abbiamo acquistato questo mese. Come sapete abbiamo una sezione della nostra collezione dedicata proprio a questo ambito e qui troviamo Roberto Vecchioni Ippopotami concepito da Andrea Pazienza con cui aveva un grandissimo rapporto di collaborazione ma anche Enzo Avitabile disegnato dal mitico Milo Manara. Veramente stupendo. Non il mese più corpulento ma sicuramente tantissime variante pezzi da collezione che da ora in poi andranno ad arricchire la nostra libreria. Fateci sapere quale di questi volumi vi ha veramente intrigato qui sotto nei commenti e cosa state leggendo ultimamente. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. A presto.